Ciao a tutti, sono Giorgia e oggi sono qui in questo video per mostrarvi tutte le mie catene Dalla più facile alla più difficile, andiamo! Sardo semplice Tolup Tolup Sardo semplice Tolup Tolup Sardo semplice Tolup Sardo semplice Tolup Sardo semplice Tolup Talut, talut, talut 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. E adesso le catene con i doppi. Sì. 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 Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel mi piace. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!